Emanuele Sacripanti, segretario generale dello Yacht Club Puntala, è anche membro del comitato di regata di questa Grand Soleil Cup, quindi possiamo parlare di tutto. Allora, soddisfazione per Puntala e per lo Yacht Club di ospitare anche una manifestazione così bella e importante, è tornata veramente in grande forma la Grand Soleil Cup? Assolutamente sì, anche perché per me personalmente è quasi 30 anni di carriera, perché arrivai a Puntala proprio con una delle prime edizioni della Grand Soleil Cup, quindi è una cosa diciamo anche di cuore. Sicuramente sì poi per quanto riguarda la manifestazione in sé per sé, perché è una manifestazione di cantiere importante, raccoglie un numero importante di imbarcazioni, quindi siamo soddisfatti come organizzatori di questo evento e collaboratori del cantiere del Pardo. Senti, Puntala ne abbiamo viste tutte di regate, di ogni tipo, insomma, non è che stiamo a citare uno dei campi di regata ormai più famosi proprio al mondo, anche all'estero lo conoscono. Oggi avete regalato come comitato di regata ai partecipanti, diciamo, un classico, lo Sparviero e Cerboli, nell'ordine Cerboli e lo Sparviero, detto anche la Troia, insomma, comunque avete un percorso classico, avete proprio la cartolina, diciamo, di Puntala. Beh, assolutamente sì, anche perché oggi, anche se era, dal punto di vista tecnico, una veleggiata, volutamente proprio organizzata come veleggiata, il nostro comitato di regata, che ormai lavora in modo professionale da anni, l'ha gestita come una regata, diciamo, anche di categoria superiore. Però abbiamo fatto, credo, divertire i partecipanti, un campo di regata che si dimostra sempre interessante, molto tecnico. Oggi avevamo un po' di timore perché il vento non era così previsto, invece ci ha dato questa buona possibilità, una giornata di sole, bella giornata, adattissima per una veleggiata di questo tipo. Il percorso, come hai detto te, noi abbiamo anche la fortuna, oltre alle condizioni meteo, proprio di avere delle isole che ci fanno da boe naturali, quindi il passaggio a Cerboli, il passaggio allo Sparviero e il passaggio sotto costa sono chiaramente anche per le immagini di tutto rispetto. Ultima domanda, vedo che si insiste molto su questa è una veleggiata, è una veleggiata, ma dalla barca a comitato avete visto anche attimi di agonismo, insomma ci sono anche equipaggi un po' più, un po' che tendono di più all'agonismo o no? Assolutamente sì, ti dico che per esperienza io non credo mai che le regate sono tra amici o le veleggiate sono tra amici, anzi le regate o veleggiate che partono con questo spirito diventano le più complesse, perché quando è una regata e sai che è uno stand organizzativo ci sono dei parametri ben precisi, professionismo chiaramente sugli equipaggi, barche tutte tirate proprio per questa situazione e un comitato di regata che è attento. Molto spesso si può rischiare invece di gestire una veleggiata e sottovalutare il fatto che poi a bordo c'è sempre un agonismo, l'abbiamo visto in partenza che far partire 44 imbarcazioni è da sempre quello spirito di adrenalina e noi abbiamo cercato di fargli fare una partenza di tutto rispetto. Grazie. A voi.